Questa è vita. Pensa a te, di fianco alla spiaggia di Miami. Per il lungo durante l'entrata del porto. Questo è il faro di navigazione. E questi sono degli appartamenti della Madonna. Una delle zone più ricche in assoluto. Non si vede male, ma c'è un tramonto spettacolare. E' meglio addosso qualcuno che andare sotto. Miami è veramente una cosa incredibile. A parte che è la città della gnocca. Guarda che bello. Io sono un residente. Guarda che bello. Guarda che bello. E' vero. Incredibile. Vabbè, ci credo. E qua come fanno a girarti i maroni? C'è una bagassa ogni cinque metri. Un posto incredibile. Una pace. Gatto nero, porco Dio. Sto girando il video anch'io. Se vogliamo prendere un caffè, volentieri. Dai.